Buon pomeriggio dalla redazione di Florence Multimedia in studio Nicola Gianna Attasio. Sulla FIPILI Coda è l'uscita alla strassegna provenendo da Firenze e rallentamenti per traffico intenso tra Scandicci e l'allacciamento a 1 Firenze-Scandicci in direzione Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di careggiata per lavori in direzione Siena tra lo svincolo a 1 di Firenze-Impruneta e San Casciano Nord. Sulla statale Trebis-Tiberina lavori nel tratto compreso tra lo svincolo di Resina e quello di San Sepolcro Sud in entrambe le direzioni. Per quanto riguarda la viabilità cittadina a Firenze si segnalano rallentamenti per il traffico intenso sui viali e per i lavori della tramvia da mercoledì chiusa via Corridoni per il getto conclusivo sulla sede tramviaria. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!